The King of Games, il re dei giochi Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games Oggi vi presentiamo la collezione premium di Blastoise GX Fantastica, bellissima E' già uscita di Charizard, quindi manca l'appello solo Venusaur E finalmente, dopo più di un anno Esce anche Blastoise Cosa contiene questa fantastica confezione? Intanto 6 boost della serie Pokémon Una carta figura intera di Blastoise GX Le sue pre-evoluzioni, ovvero Squirtle e WarTortle Distruggiamo la scatola perché non si può fare altrimenti E una spilla con Blastoise Una moneta, sempre raffigurando Blastoise Una carta figura intera in versione Jumbo di Blastoise Ecco qui, guardate che bella Aspettate che levo le carte perché a volte si rovinano E' meglio farlo con delicatezza Ecco Squirtle, WarTortle e Blastoise GX in versione full art alternativa Eccolo qui Guardate che belle Fantastiche In ordine Ok Poi abbiamo La carta codice da qualche parte Che sblocca questa confezione online Eccola qui E un po' di bustine di Pokémon Oltre che Questa bellezza Allora abbiamo Geyser Gigante GX Assegna piacimento ai tuoi Pokémon Un numero qualsiasi Di energie Acqua dalla tua mano Non puoi usare più un attacco GX a partita La spilletta Bellissima E la moneta Che non so dove è finita Ok E' rimasta nella plastica Adesso la tiriamo fuori Ecco Sempre belle le monete Pokémon Guardate che bella Wow Davvero stupenda Ok Apriamo le bustine Direi Andiamo per ordine Guardiani Invasione Scarlatta Tempesta astrale Toni perduti E legami inossidabili Eccoci qua Via Si parte Speriamo di trovare Tapulele Allora 3 4 2 Mad Ray Delibird Wishiwashi Janko Ho Windpod Energia Buio Super Martello Distintivo Acqua Sligu Akamo Ho E Liligant Raro Niente di Interessante Continuiamo con Invasione Scarlatta 1 1 3 4 2 Un fondo Ecco qua Execute Mawile Marsupio Lesto Iridio Bunelbi Raraolo Aggron Qui c'è andata Meglio Tempesta astrale Tempesta astrale Potrebbe riservarci un Raikwaza GX Speriamo Hyper Perché vale davvero tanto Io qui ho sentito qualcosa Quindi speriamo bene Bagon Torchic Love Disc Spinarak Torchic Energia Elettro Report Televisivo Erbavita Gorebis Medicham Uuuu Shizor GX Full Art Bellissimo Che figata Eh non smetterò mai di dirlo Quando è con le Full Art Pokémon Si supera sempre Rimani sempre a guardarle E Shizora Difendente Incrociato GX Si continua con Tuoni Perduti Ecco qua Allora 3 4 E 2 In fondo Trico Censi Pancirisu Poplio Spinarak Energia Acqua Martello Tattico Retebol Kecleon Slocking E Miltank Rara E adesso Veniamo ai giorni nostri Con i legami inossidabili Ok Tante bustine da aprire In questa collezione Premium Carvana Cappuccio Furtivo Chatto Trader Eletromagnetico Wooper Reverse E Sharpido Rara Speriamo di non trovare solo una Full Art E di trovarne un po' di più Speriamo che ci faccia sognare l'ultima Ghastly Togepi Pikachu Mark Rowe Rihorn Energia Buio Thoracat Poliweir Gloom Kingler Ok A posto Niente sorpresa finale Ma abbiamo trovato un Shizor GX Full Art Da Tempesta Astrale Che non delude mai Allora Ricordatevi Iscrivervi al canale Mettere like al video Condividerlo se vi piace E sapeteci dire se vi piace I nostri video di pokemon In modo da continuare a farli Detto questo A breve Apriremo anche lo shop online Quindi Se per caso vi serve qualcosa di pokemon Abbiamo tutte le carte singole E tutti i prodotti disponibili Quindi Non esitate a chiederceli Su instagram O anche via messaggio privato Su facebook E noi ve li spediremo Siamo già abili a fare spedizioni E ne facciamo già tanto ogni giorno Quindi ogni giorno parte qualcosa Ergo Avete sempre Una immediata spedizione Dei vostri prodotti Che vi interessano Quindi ragazzi Alla prossima puntata E grazie per averci seguito Ciao Mi raccomando Iscrivetevi al canale E non perdetevi i nostri prossimi video The king of games Il re dei giochi